Il governo è un po' di più Ma ho molti problemi perché? Niente stipendio, niente pensione, niente sociale Si può essere un po' di più e di più e di più Ma ci sono i muslimi e i serbi Ci sono le posizioni dell'armistica Bosnia e da qui ci sono le posizioni dell'armistica serba da tutto Vedere la guerra da vicino ti porta a considerarla veramente una follia a dividere la linea del fronte come dicevamo tante volte tra chi la guerra la fa e chi la guerra la subisce C'è un po' di più Il progetto Arcevi non è solo un progetto nato come conseguenza della guerra ma è un progetto che ha ottenuto già una forte credibilità a livello internazionale Il progetto Arcevi si sta sviluppando attraverso i rapporti umani Le bambini sono grandi victime ma non solo durante la guerra ma oggi Le bambini non sono davvero sottolinei D'abord in l'educazione e io vi ho detto che ci sono tre programmi di l'educazione per i bosnii, per i croati e per i serbi e oggi abbiamo detto che in Bosnia il 20% sono un alfabeto Per questa gente che ha sofferto tanto ma che ha una veramente grande voglia di ripartire grande amore di ripartire verso tutti Deve creare una situazione concreta deve creare davvero qualcosa che unisce la gente Io non posso andare in un villaggio a parlare con una donna dei diritti delle donne se lei entro io parlo pensa ma cosa domani io posso dare ai miei figli per mangiare? Era importante per tutti e due creare una cosa concreta concretizzare pacifismo Basta 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 Grazie a tutti